Lo avevano notato in molti che la puntata di Chi l'ha visto del 17 maggio ha strizzato l'occhio agli anni 80-90 ritornando sulle tracce di celebri cold case come la scomparsa di Angela Celentano. Sul monte faiito, di notte in mezzo al bosco, l'inviata del programma di Rai 3 Veronica Briganti ha ripercorso le tappe del caso che ha tenuto col fiato sospeso l'Italia intera quel 10 agosto 1996. E per immedesimarsi meglio la produzione le ha fornito un microfono a filo di quelli che non si vedevano in tv da un ventennio. Il particolare non è passato inosservato agli occhi dei chi l'ha vissers annoiati dalla puntata e dunque pronti a ironizzare su qualsiasi dettaglio pur di trascorrere la serata davanti alla tv e sui social facendo qualche risata. Così se da una parte qualche utente ha fatto notare che il collegamento della Barbati con la Sciarelli e lo studio di Chi l'ha visto era perfettamente inutile qualcun altro ironizzava sul microfono a filo e scriveva Apro Chi l'ha visto e vedo un collegamento con la Briganti con il microfono a filo dell'85 credo Beh è rimasta tonica oppure leggiamo All'inviata hanno dato il microfono con il filo per non perderla E ancora c'è Kitchinguetta A me dispiace per la Celentano ma a questo punto sono più in ansia per il cavo All'inviata